stai facendo i compiti e dico una domanda e di papà quale è la domanda qual è la corsa più veloce al mondo e semplicissimo papà se la corsa più veloce al mondo è il battito delle ciglia così vedi fai così veloce fai pure tu è veloce è veloce papà e scrivi scrivi no ha detto papà no la corsa più veloce al mondo è il battito delle ciglia va bene peppina mia bella ciao ci vediamo a casa mi raccomando fai bene i compiti eh ciao 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 è forte mia figlia ma che cosa fai dicendo a tua figlia dai la cosa più veloce è la luce tu schiacci il bottone tutto il lungomare si accende centinaia di mila di ceni lungomare la luce veloce a scuola si è andato la fisica la luce fa 300.000 km al secondo anche se c'è una cosa più veloce della luce non credo qual è il pensiero ma non pensi che sia pensiero tu un attimo prima sei qui un attimo dopo sei su un pianeta lontano su una galassia lontana pensiero va e se uno è scemo presse vuoi fa pensare una regalata e c'è un magasciano di che non funziona non è il fatto di far funzionare l'interruttore ho sentito a me il pensiero no 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 io dico che il bacio di ciglia no io l'ho detto a mia figlia deve scrivere in commenta se l'hai detto al tuo figlio prima c'è la data un altro goccio a testa allora facciamo farla mentre stavamo facendo una chiacchiera allora noi stavamo discutendo qual è la cosa più veloce del mondo senza dire chi è stato uno di noi ha detto che la cosa più veloce del mondo è il battito delle ciglia un altro ha detto che è la luce un altro ha detto che il pensiero secondo te qual è la cosa più veloce in assoluto il battito delle ciglia la luce o il pensiero secondo me ragazze devo essere sincero la cosa più veloce al mondo mi dispiace per voi ma non è nessuna delle tre la luce la pensiero la cosa più veloce al mondo ragazzi la diarrea stanotte ho avuto una diarrea di quelle papà la grandi immaginate un po che prima di poter pensare o battere le ciglia non mi ha dato neanche il tempo di accendere la luce che mi ero già caccato addosso grazie grazie grazie